ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare in cina sono giulio come promesso nella recensione di recensione commento di shining extended edition vi parlo di un corto che che ho visto questa questa mattina luca comics che si chiama sacrificio un film fan film anzi l'espressione il giusto è fan film made esatto legato a star wars una produzione tutta italiana budget piccolissimo tra l'altro ho ripreso anche l'incontro se volete un po vedere quello che hanno detto lo trovate su youtube di cine tv l'andia e ho visto questo corto che in realtà dura una ventina di minuti che si chiama punto sacrificio ed è collocato tra il rogue one e guerre stellari sarebbe star wars 4 a new hope una nuova speranza ma per me è sempre solo guerre stellari perché da piccolo ho visto guerre stellari per me episodio 4 è guerre stellari punto parte questa questa cosa volevo fare una recensione un commento di questo sacrificio perché mi è mi è mi è piaciuto molto è una piccola produzione però fatta con tutti i crismi con soprattutto un'idea chiara cioè il già dal titolo si capisce il senso del del film cioè parla di un'avventura della della resistenza e del senso di quanto sia importante sacrificarsi era un po il discorso che se avevamo visto anche il rogue one lo spin off è uscito tre anni fa quattro anni fa tre anni fa nei cina solo che questo corto è stato progettato addirittura prima e hanno detto durante l'incontro che visto il film in rogue one hanno fatto delle delle piccole correzioni per appunto deviare un pochettino però è un corto interessante perché si respira l'atmosfera proprio di star wars si respira quel quel tipo di cinema quell'atmosfera di film di fantascienza e di guerra di contrapposizione tra naturalmente le forze del bene la resistenza e darth vener poi è bello perché ci introduce anche dei 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 personaggi che non avevo mai visto e perché tecnicamente anche se il budget è veramente limitato hanno detto che hanno speso poco meno di 10 mila euro quindi veramente niente ecco secondo me hanno tirato fuori un prodotto assolutamente dignitoso che si fa a guardare proprio bene con con gusto con una cura per quanto possibile dei dettagli degli effetti degli effetti degli effetti speciali e quello che mi è piaciuto di più è la la regia che è diretta a quattro mani vi dico anche di chi di michele lugaresi e alessandro randi che erano presenti all'incontro e si vede che hanno un le idee chiare che il questo cortometraggio di 20 minuti circa funziona proprio bene tutto tra l'altro le riprese sono tutte attorno al film è prodotto da un fan club di 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 ravenna e zone limitrofe e le hanno girato tutto in quella zona però hanno usato benissimo le location soprattutto quelle delle di una foresta e di un di una di una spiaggia e anche tecnicamente da un punto di vista sonoro hanno fatto un bel lavoro ci sono ci sono ovviamente gli effetti speciali con ad esempio le cos'è che le astronavi che che sparano ovviamente essendo un piccolissimo film è tutto limitato ma si capisce lo spirito l'intento e non posso che fare i complimenti perché il lavoro è comunque nel budget limitato molto proprio professionale fatto bene il film è appunto corto si chiama sacrificio hanno detto che il sarà messo tra novembre e dicembre su su youtube e quindi io mi sento di consigliare di dargli un'occhiata perché è carino poi in realtà riesce a benché sia proprio piccolo perché racconta di una missione riesce però a rappresentare un po tutte le caratteristiche delle dell'universo di star wars o guerre stellari sia delle astronavi all'interno delle astronavi sia appunto come detto nella nella foresta sia in abbastanza dinamiche c'è ad esempio un inseguimento come se fosse come se fossimo nella foresta degli uox insomma ci sono tante cose secondo me sfiziosi e simpatiche e ha tirato fuori un assoluto bel 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 lavoro si vede fatto con col cuore ma anche con professionalità anche gli stessi attori devo dire la verità sono sono bravi se la cavano bene quindi sono proprio soddisfatto di questo corto che si chiama sacrificio fan film made e se vi capita vedetelo io l'ho visto in appunto in anteprima questa mattina a luca comics questa è stata una veloce recensione e prossimamente ne pubblicherò altre sempre qua dal luca comics mi raccomando iscrivetevi al canale youtube di cinetilandia ciao